Dopo i danni legati a contraffazione, pirateria, calamità naturali e prodotti venduti ormai sotto costo, ci mancava anche l'Imu a svuotare ancora di più le magre tasche degli agricoltori. Il grido di allarme delle associazioni regionali del settore è che la nuova imposta municipale unica proprio non riescono a mandarla giù. A Bari i rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Copagri hanno incontrato i parlamentari pugliesi di centrodestra e centrosinistra per chiedere loro che si riveda quanto prima un provvedimento che rischia di abbattersi come una scure su aziende già duramente provate dalla crisi. Ai parlamentari pugliesi noi chiediamo la revisione totale di questa tassa, chiediamo che prima di tutto venga fatto un censimento di quelle che sono le situazioni da andare a tassare e dopodiché vedere di eliminare tutte quante le situazioni che non sono tassabili, come ripeto ancora una volta, tutti i fabbricati che sono fabbricati strumentali. Andare a tassare una stalla, andare a tassare un ricovero attrezzi, andare a tassare addirittura un trullo diventa una cosa veramente insopportabile.